La ricerca di una passione è al coltivarla, perché credo che sia il fuoco che porti avanti tutto. Quindi quando hai una passione e ti impegni in qualcosa che non sia per forza di natura sportiva, tutto ha più un senso. Sono questi i consigli che il marciatore olimpionico andriese Francesco Fortunato ha voluto lasciare alle classi della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri ad Andrea. La visita di Fortunato nell'ambito di un progetto di educazione civica organizzato dall'istituto dal titolo Incontri con i campioni per celebrare lo sport come veicolo eccezionale di formazione per i ragazzi. Abbiamo voluto fortemente la presenza di Francesco e del suo allenatore Antonio, che sono i simboli dello sport andriese, perché campioni italiani entrambi nei loro tempi. Perché vogliamo questo progetto in questa scuola? Perché riteniamo che lo sport debba diventare la terza agenzia educativa dopo la famiglia e la scuola. Lo sport con le sue esperienze di aggregazione, di confronto diventa maestro di vita per i ragazzi. All'interno della scuola non deve essere visto come un ostacolo, ma come proprio un mezzo per migliorare l'attenzione, la concentrazione e sviluppare tutte quelle capacità che porteranno poi questi ragazzi ad essere adulti sani nella vita di tutti i giorni. Ed il ruolo di atleti internazionali come Francesco Fortunato è proprio anche quello di essere testimonial di passione, coraggio e dedizione nel rispetto di regole e fatica che solo lo sport possono insegnare. Cerco come sempre di trasmettere ai ragazzi tutto quello che ho imparato in questi anni di attività e spero che anche loro riescano a accogliere e attirare tutto quello che io avrò da dirgli. L'incontro con Francesco Fortunato ha visto l'entusiasta partecipazione di diverse classi dell'Istituto Andriese e arriva dopo un altro evento organizzato, questa volta in trasferta sul manto erboso dello stadio Sant'Angelo dei Ricchi. Con la prima squadra e i dirigenti della Fidelis Andria.